Allora, vigilia di Last Juventus, scusate se rido un pochettino ma è stata una conferenza stampa, oserei dire, bizzarra, quindi rivelo subito i miei segreti, nelle ultime che ci eravamo trovati qua a commentare, continuiamo a dirvi che in realtà gli ultimi approcci di Allegri mi stavano piacendo, mi stavano convincendo, quella di oggi è stata una conferenza stampa oggettivamente sotto il livello, dal punto di vista di quello di cui si è parlato e dal punto di vista dei concetti espressi, anche come sono venuti fuori, avevo la sensazione che Allegri non stesse proprio bene a livello di salute perché si sentiva questa voce un po' bizzarra, poi lui stesso ha confermato questa cosa, quindi il beneficio del dubbio mi è sembrato davvero poco lucido, poi anche lui è andato un pochino a dire, ci arriviamo però sicuramente, anzi in realtà lui ha detto che era lucido ma rincoglionito, non so bene la differenza tra queste due cose, andiamo avanti, domani si gioca Last Juventus, inizia la conferenza stampa di Allegri con un boccalupo a Berlusconi che come sappiamo tutti è ricoverato in questo momento per problemi di salute, Allegri e Berlusconi hanno avuto un'esperienza lavorativa ai tempi del Milan e da lì Allegri ha iniziato il suo percorso allenatore vincente. L'Alastri sta facendo un ottimo campionato, ha fatto 54 punti contro i nostri 59 e uno scontro diretto per il secondo posto, e già qua c'è la prima imperfezione ma stiamo parlando di niente perché l'Alastri in realtà ha 55 punti contro i 54 citati da Allegri, davvero cambia poco e niente, e poi dice Sarri è tornato agli inizi quando si contraddistingueva per le grandi difese, l'Alastri è la migliore difesa del campionato con 19 gol, 6 clean sheet in Serie A nelle ultime 6, sarà una partita difficile e complicata. Sono andato a controllare effettivamente così, l'Alastri ha subito dei gol soltanto all'interno delle competizioni europee in queste ultime partite, 6 gol, 6 clean sheet, migliore difesa con 19 gol, quindi già questo è un biglietto da visita importante, avevamo già visto che andare a Roma e segnare un gol non è facile con la Roma, infatti la partita era finita 1-0 per i giallorossi, ecco l'Alastri è una squadra ancora più compatta rispetto a quella allenata da Murigno, quindi vediamo un attimino che cosa accadrà, sicuramente non sarà facilissimo. Poi dice, formazione non ho deciso, vedremo dopo allenamento, devo vedere Pogba e Bunci che ha lavorato con la squadra e chi ha recuperato martedì. Iling e Barrenece hanno giocato con la Next Gen e non saranno convocati, hanno vinto una partita importante, la Next Gen è l'unica che può retrocedere ma non partecipare alla, e non ho capito, si diceva B o D? Dato che può retrocedere, immagino B, però se ben ricordo la Next Gen può partecipare al campionato di Serie B, semplicemente non può arrivare al campionato di Serie A, almeno che non siano cambiate le regole, questo era quello che mi ricorda a voi, quindi chiedo anche a voi, che magari seguite con più attenzione il campionato di Lega Pro, fatemi sapere questa cosa qui, secondo me la Next Gen in bici potrebbe andare, non può semplicemente arrivare nella stessa serie in cui gioca anche la squadra madre. Questa partita però ha fatto crescere i ragazzi sotto il punto di vista mentale. Mi sono fatto tirare fuori le stats di Real e Barcellona, che sono quelle più vicino al nostro, e ho visto le presenze, non so cosa intendessi livello, perché secondo me a Real e Madrid e Barcellona abbiamo qualcosina di distacco in questo momento, però va bene. e dice Carvacal ha fatto oltre 100 partite nella seconda squadra, 70 gli altri, in Italia siamo un pochettino indietro, bisogna dare un'accelerata su queste cose. Speriamo lo capiscono in primavera, sarebbe un passo importante. Allora per curiosità, mentre guardavo la conferenza stampa, sono andato a controllare questa cosa e Carvacal ha giocato 71 presenze con Real Madrid-Castiglia, altri giocatori presenti nella rosa del Real che hanno giocato nella Castiglia, e quindi Carvacal non dovrebbe averne giocato 100, a meno che non intenda anche statistiche che non sono riportate da Wikipedia, c'è Nacio, che ne ha giocate 111, c'è Valverde, che ha giocato 30 presenze, quindi una sola stagione prima di approdare al Deportivo La Corugna e ritornare a Real Madrid, e Lucas Vazquez, che ne ha giocate 92, quindi anche qui forse ho fatto un po' di confusione con i dati, ma va bene. Ho capito quello che voleva dire, ecco, e ho capito anche quello che voleva dire all'interno della prossima domanda, dove a livello di comunicazione qua siamo andati veramente nel pallone, si capiva che anche lui era abbastanza in imbarazzo a parlare di certe tematiche o di cose che solitamente non dice, sono uscite molto male dalla sua bocca. Buona l'idea, cattiva l'esecuzione, potremmo riassommere così. E dice, quello che è successo in campo è qualcosa di brutto da vedere nel mondo del calcio, sia quello che è successo sia quello che è arrivato da sopra. Io questo non ho capito, però poi dice una roba inerente, dice, noi allenatori e dirigenti dobbiamo essere da ottimo esempio, ma capisco che ci siano dei livelli, e comunque anche certe situazioni. Io non ho capito se questa è una frecciatina frecciatona nei confronti di Simone Inzaghi della serie, ci sono i livelli nel modo in cui ci si comporta e anche in cui poi ci si va ad esprimere alle telecamere, io l'ho letta così, a livello dirigenziale o di allenatore, perché so che c'era un dirigente dell'Inter che ha preso una multa perché non era all'interno della distinta, non ho capito tanto cosa sia quello arrivato da sopra, il tema del razzismo, il fatto che l'evento si sia massato, non ho capito. Poi dice, sono orgoglioso che la Juve nel giro di 24 ore abbia preso chi ha fatto insulti razzisti, e poi dice, qua veramente mi ha fatto sorridere perché sembrava un nonno che parla al nipote di certe cose senza essere completamente padrone della proprietà di linguaggio che va a utilizzare. Dice, la Juve combatte ogni tipo di discriminalità, e poi dice, no vabbè, discriminazione nei confronti di ogni gesto razzista. Io qua sorridevo perché continuavo a vedere che su tutte le domande che aveva fatto c'erano state sempre un po' più di imperfezioni, e poi dice una cosa che oggettivamente è abbastanza bizzarra da dire, è proprio una persona che di solito in queste tematiche non parla, dice che siano bianchi, e poi c'è stato un momento di pausa, e io continuavo a dire, non lo sta per dire, non lo sta per dire, non lo sta per dire, e invece sì, che siano bianchi, che siano neri. Non cambia niente perché siamo tutti uguali. I gesti di discriminazione razzista sono uguali per tutti. Io ho capito il macro messaggio e quello che voleva dire Allegri, cioè anche Kostic, anche Vlaovic, che sono stati bersaglio di discriminazione razziale all'interno degli stadi, non sono di colore, sono caucasici, quindi non esiste un razzismo di serie A, un razzismo di serie B, un razzismo a seconda del colore della pelle, e il razzismo è un razzismo sempre. Gli è uscita malissimo, è uscita malissimo. Apprezzabile il tentativo, speriamo che la prossima volta sia decisamente meglio nell'esposizione. La Juve sta combattendo e dovremmo farlo tutti. Ed è strano perché sono stati 95 minuti tranquilli, è stata una partita tranquilla e è scoppiato tutto nella fine. Detto questo bisogna pensare al campionato, poi penseremo al ritorno del 26 aprile. Come vi dicevo, Allegri si vedeva che non era proprio del 100%, ogni tanto era anche complicato capire cosa diceva perché aveva questa voce differente, a volte a tratti anche nasale, quindi non stava bene, si sbiascicava, si smangiucchiava qualche parola. Quindi spero di aver riportato tutto correttamente. È stata la conferenza stampa più problematica perché continuavo ad andare avanti e indietro, perché certe cose davvero non le capivo, altre cose dovevo verificarle, capire se stava dicendo effettivamente qualcosa di vero oppure no. Cerco sempre di farvi una panoramica completa di quella che poi è la conferenza stampa dell'allenatore. Chiesa sta meglio, è entrato bene, domani dovrò decidere se farlo partire dall'inizio o portarlo in panchina. Giovedì abbiamo un altro match, in difesa ci sarà qualche cambio per i giocatori che hanno giocato tanto. Poi dice, immobile è diverso da quelli che ha la lastra davanti, attacca la probabilità e gioca bene in area di rigore, lo scorso anno mi sembra è stato capocannoniere, Alexandro sta meglio, potrebbe giocare. Gatti è migliorato, bisogna migliorare la velocità del passaggio, ma non solo lui, tutta la squadra. Abbiamo lavorato meglio tutti come squadra, ma bisogna prendere le cose buone e anche quelle meno buone per migliorare. Anzi, ogni giorno lavoriamo per migliorare le prestazioni successive. E poi gli chiedono, Sarri è uno dei rari casi in Serie A in cui vince lo scudetto e viene esonerato. Che cosa è mancato a Sarri per ottenere la conferma alla Juventus? E lui dice, no, ci sono anch'io, se io che Sarri siamo stati esonerati dopo lo scudetto. È errata la domanda, ma anche qui non è vero, perché ha detto è uno dei rari casi, non ha detto è l'unico caso. E dice, sono un po' rincoglionito oggi perché ho la tosse, ma sono ancora lucido e ho buona memoria. Vabbè, sulla memoria mancherebbe altro che non si ricorda il fatto di essere stato esonerato con ancora un anno di contratto che ha comunque sfruttato rimanendo a casa, perché la Juventus ha continuato a pagare il contratto oneroso di Allegri anche nell'anno in cui era fermo, quindi buona memoria. Grazie al piffero, mi parebbe da dire. Sul lucido oggi invece, questo, davvero poco lucido. E poi dice, Maurizio quest'anno è una squadra solita, rispetto a qualche mese fa lo dimostra ai numeri, quindi non ha voluto rispondere a questa domanda. Poi dice, non vorrei che venisse fuori uno 0-0 senza tiri in porta. No, ti prego, cioè, guarda, veramente no. Non ce la posso fare prima di Pasqua a fronte a una roba del genere. La lastra è difficile da attaccare e fare gol, mancano poche partite e i punti sono sempre più pesanti. Non commento le decisioni del giudice, ci sono organi di competenza che decidono. Noi dobbiamo pensare a giocare. Non facciamoci distrarre dalle cose di campo, perché non sarà né la prima né l'ultima. Io stesso ho perso la calma contro la Salernitana. Cerchiamo di non ingigantire troppo la situazione, era stata una bella partita. Dispiace per gli episodi. Quadrado ha preso tre giornate di squalifica, per lui la Coppa Italia è finita. Devo dire la verità, però, ha preso decisamente di più questo modo di comunicare su determinate tematiche, piuttosto che quello che abbiamo visto fare a Simone Inzaghi l'altra sera, che ho già commentato, non ci voglio tornare sopra, però, il fatto di essere sempre innocenti e gli altri colpevoli, e quindi i più belli del mondo e sono tutti gli altri, invece, ha preso molto di più uno che dice è stato squalificato, è finita, basta. Da questo punto di vista, credo che Allegri abbia dimostrato decisamente di più di Inzaghi nel modo in cui ha gestito la situazione. Ripeto, Inzaghi, se voleva davvero giustificare Lukaku, poteva farlo utilizzando il tema del rassismo, andando a toccare certe tematiche, piuttosto che nascondersi dietro al non hanno capito l'esultanza, perché Lukaku non è stato espulso per l'esultanza, è stato espulso per la reazione, che sono due cose decisamente diverse. Cerchiamo di non mistificare la realtà, perché queste che abbiamo visto fino adesso sono state errori che sono, tra virgolette, innocui, non sono fake news volte a migliorare una determinata posizione. Inzaghi che parla di Lukman e dice che l'ammunizione era stata tolta, ma non è vero, cioè, non è vero, perché le dobbiamo dire? Qua Allegri ha fatto un fritto misto di inesattezze, ma sono due cose diverse. E poi dice, consigli a Sarri non ne ho da dare sulla questione relativa alle plusvalenze e tutte le indagini che si stanno svolgendo in questo momento negli uffici romani. Sono vigente politiche giudiziarie a cui la Juve pensa, lavora e si difende nelle stanze di competenza. Anche qua, risposta impeccabile. E poi gli ha rifatto la domanda, gli ha detto, allora, mettiamo il plurale, sia lei che Sarri, cosa vi è mancato per la conferma? E Allegri è anche qua molto furbo a dire, eh vabbè, ma io ormai mi sono dimenticato, è passato tanto tempo, e comunque parlo per me, non per Sarri. In quel momento era giusto di vedersi, magari altrimenti non ci saremmo ritrovati dopo. La vita è piena di bivi, bisogna lasciare andare le cose ed essere un po' fatalisti. Attenzione perché a questa domanda, anzi a questa risposta di Allegri, mi si è riaccesa quella lampadina che da un po' di tempo è lì che pulsa, e sapete bene che in questo momento abbiamo due strade, quella della ricostruzione giornalistica che va verso la conferma di Allegri anche l'anno prossimo. E poi, ho degli adepti, perché si rivedono in quello che è il mio pensiero, una sorta di teoria di illazione, ecco, tornano fuori le illazioni che erano un po' che non venivano fuori, secondo la quale Allegri poi quest'estate deciderà di fare un passo indietro dalla Juventus e deciderà lui stesso di non continuare la sua avventura sulla panchina bianconera. E questa risposta di Allegri un po' sibillina con quella faccia da furbetto che va a toccare anche determinate tematiche proprio di questa roba qui mi ha riacceso quella lampadina. Ma come diceva Pavel Nedved, chi vivrà vedrà. Questo è l'unico modo che abbiamo a disposizione per capire quello che accadrà. E quindi ragazzi, spero di aver fatto un buon riassunto. Noi ci vediamo ovviamente domani con tutti i video narrativi della partita e poi ovviamente con la live reaction e i video post partita. di un last Juventus che mi auguro non essere un 0-0 senza tiro in porta.